La struttura ricettiva in costruzione a Bosco di San Giovanni Appiro può essere dissequestrata. Due anni fa la procura di Vallo della Lucania fece apporre i sigilli ai quattro edifici ancora incompleti, riscontrando una serie di irregolarità nei permessi rilasciati ad un imprenditore del posto finito poi sotto processo. Nell'udienza di mercoledì scorso il GUP, in sede di giudizio abbreviato, lo ha assolto da ogni reato perché il fatto non sussiste. Il giudice ha anche ordinato l'immediato dissequestro dell'immobile. Il proprietario delle strutture era accusato di falso abuso in atto d'ufficio e reati edilizi per aver conseguito, secondo l'accusa, un permesso di costruire il legittimo, finalizzato alla realizzazione di un impianto ricettivo a poca distanza da Scario. All'epoca dei fatti il sequestro fece molto rumore e finì in preda alla politica locale perché il proprietario degli immobili sequestrati era stato candidato e non eletto nella lista dell'attuale sindaco Maria Stella Gianni. Pienamente soddisfatti della sentenza, gli avvocati Vincenzo Speranza e Salvatore Paradiso che ora attendono il deposito, entro 60 giorni, dei motivi dell'assoluzione. Intanto ieri a Vallo della Lucania si è tenuta l'udienza preliminare a carico del responsabile dell'ufficio tecnico del comune di San Giovanni Appiro, Raffaele Laino, per il quale il PM ha chiesto il rinvio a giudizio per aver omesso, volontariamente secondo l'accusa, di adottare l'ordinanza di demolizione di alcune strutture abusive in località Cerreto di proprietà del padre dell'assessore Beati. Durante l'udienza i consiglieri di minoranza, Palazzo e Gagliardo, hanno chiesto di costituirsi parte civile, cosa sulla quale il giudice si è riservato di decidere nella prossima seduta, fissata al 9 ottobre. Prima di quella data, dunque, il GIP non potrà pronunciarsi nemmeno sulla richiesta del pubblico ministero.